La Guardia di Finanza di Siracusa ha eseguito sei ordinanze custodiali emesse su richiesta della Procura della Repubblica di Siracusa e dalle GIP del Tribunale nei confronti di quattro professionisti e di due funzionari dell'autorità portuale di Augusta in ordine al reato di corruzione. Il provvedimento riconosce la ricorrenza di diverse ipotesi di corruzione e di turbativa d'asta nell'ambito delle gare d'appalto bandite dall'autorità portuale di Augusta per la realizzazione di importanti opere infrastrutturali del locale porto commerciale. Gli appalti pilotati rientrano in quelli previsti nella scheda grandi progetti hub porto di Augusta. Le opere sono finanziate nell'ambito della programmazione 2007-2013 con fondi ponno e ammontano a circa 100 milioni di euro. Le investigazioni condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria sotto la direzione e il coordinamento della Procura di Siracusa hanno anzitutto dimostrato che le gare pubbliche bandite dall'APA sono state turbate. I bandi e disciplinari di gare, infatti, non venivano direttamente predisposti dai funzionari dell'ente pubblico appaltante, bensì venivano realizzati da professionisti titolari di una società di progettazione siracusana. Inoltre, in alcune circostanze, taluni commissari di gara, dopo aver svolto l'incarico di componente della commissione giudicatrice, ricevevano, anche con lo schermo di terzi soggetti, incarichi di consulenza dalla società che si era giudicata all'appalto. Attraverso la meticolosa ricostruzione delle relazioni intercoerenti tra i tre professionisti titolari della società di progettazione e i due funzionari dell'APA, addetti alle procedure di evidenza pubblica, è stato acclarato anche che i tre privati ideavano i bandi e disciplinari di gara, mentre i responsabili unici del procedimento dell'autorità portuale si limitavano di fatto alla stampa e alla pubblicazione in gazzetta ufficiale. Figura di spicco del complesso sistema corruttivo è risultato l'ingegnere dello studio di progettazione, il quale assume il ruolo di regista del sistema di distribuzione degli appalti. Soci in affari sono risultati invece gli altri titolari dello studio, un architetto e un geometra, tra loro fratelli e due funzionari pubblici piegati al generale sistema. Oltre a queste cinque persone è stato inoltre arrestato per corruzione anche un altro professionista nel ruolo di commissario di gara. Più sfumati invece le posizioni degli altri soggetti colpiti dal provvedimento, disposto il divieto di esercitare l'attività di ingegnere per sei mesi nei confronti di un consulente dell'APA di supporto al RUPO e per 12 mesi nei confronti di un altro commissario di gara. L'assessorato regionale alle infrastrutture dei trasporti ha provveduto all'emissione di un mandato di 97.688 euro in favore delle legali rappresentanti del comune di Palazzola Creide, nella veste di soggetto attuatore dei lavori di recupero, consolidamento statico e manutenzione straordinarie dei locali da utilizzarsi per l'integrazione sociale, che sono di proprietà della parrocchia di San Nicolo Vescovo in Palazzola Creide. Lo comunica Vincenzo Vinciullo è che si è deputato regionale. Ecco, ad Augusto i tumori sono in aumento, i casi di leucemia vanno a parepasso? Sì, possiamo dire che a livello di notizie aggiornatissime, in queste 24 ore stiamo facendo i funerali di tre morti di tumore e abbiamo saputo dell'esistenza di due casi di 25 e 30 anni dell'eucemia e questo è un bruttissimo segnale. Sostanzialmente dico che questa città non è che viene decimata da queste malattie ma addirittura si sta letteralmente svuotando perché il numero di quelli che muovono per tumore diventa ogni giorno più alto. Quali potrebbero essere le alternative? Le alternative principali sono una riduzione del carico inquinante e poi l'avvio delle bonifiche e poi la prevenzione sanitaria che qui invece è stata messa proprio all'ultimo posto. Ma a quanto pare si controlla poco? Sì, la verità è che le centraline che ci sono sparse nel territorio, io parlo appunto del quadrilatero della morte perché Augusto, Apriolo, Melilli e Siracusa, ricordiamo che questo è il territorio di cui ci occupiamo, praticamente ha delle centraline che o funzionano poco o sono malfunzionanti anche sotto il punto di vista nel percepire, perché praticamente non riescono a ricavare i valori di tutti gli elementi inquinanti. Alcuni proprio non sono neanche preventivati, tra di cui per esempio il benzene è l'unico elemento che non viene controllato come si dovrebbe, a parte che comunque sia la normativa è anche carente in questo perché nella normativa manca l'inserimento di molte sostanze che noi troviamo nell'aria, ma ovviamente non essendo normate non si è neanche fuori legge, non so se riesco a rendere l'idea. Infatti ci sarà comunque sia nei prossimi giorni, anche già è comunque partita perché ci sono stati due election, diciamo due firma day, di una proposta appunto di legge al Parlamento di modificare la normativa perché comunque sia è lacunosa, è inefficiente e non ci permette di tutelarci. Il Rotary Club di Noto ha donato all'Aspè di Siracusa 5 cuffie per chemioterapia destinati all'oncologia di Avola. Si tratta di presidi che utilizzati dai pazienti sottoposti a chemioterapia sono efficaci a ridurre in modo sensibile la caduta dei capelli, effetto collaterale molto comune in corso di trattamento. Ad accogliere la donazione da parte del presidente del Rotary Club di Noto, Corrado Parisi, è stato oggi il direttore generale facente funzioni dell'Aspè di Siracusa, Anselmo Mateddu, nel corso di un incontro che si è svolto nella sala riunione della direzione generale. Assieme al presidente del Rotary Club di Noto hanno partecipato i componenti del direttivo e una delegazione di soci. Presenti anche il direttore amministrativo Giuseppe Di Bella, il direttore sanitario dell'ospedale Avola Noto Rosario Di Lorenzo e il direttore dell'unità operativa di oncologia medica Paolo Tralongo con il personale sanitario del reparto. Grazie a tutti!